Ciao ragazzi, per chi non mi conosce sono Marco di Negozi Passport. Oggi vi presento una novità che vi giuro, in vent'anni e più di attività, veramente sono rimasto stupito. Vi parlo di una soletta, è una soletta che si chiama BMZ, che ha degli effetti veramente favolosi. Innanzitutto vi dico una cosa, è una soletta che non presenta materiali stratosferici o particolari, ma lavora semplicemente su un concetto di come il piede nostro deve appoggiare. Praticamente va a lavorare sull'osso cuboide, un osso che abbiamo sulla parte esterna del piede. Ma andiamo al dettaglio, non perdiamoci in chiacchiere. In poche parole ragazzi, questa soletta lavora con questo piccolo cuneo che va a premere leggermente sull'osso cuboide, facendo in modo che l'arco plantare rimanga sempre rialzato, non ceda. E cosa significa questo in termini pratici? Praticamente l'arco plantare è sempre molto attivo, reattivo, direi anzi proattivo, e in questo modo abbiamo le dita del piede che lavorano molto meglio, abbiamo un equilibrio, una postura davvero migliorate. Fondamentalmente questa soletta serve a darci benessere, sia per tutti i giorni, da utilizzare anche durante la giornata e anche per andare a lavorare, ed addirittura si può usare in tutti gli sport, senza distinzione. Quindi ragazzi, vi aspettiamo nei nostri negozi, a Busche o Signoressa, oppure se volete vederla anche online sul nostro sito www.passport.it Ciao!